Il libro dottrine di salvezza volume 3 Le rivelazioni di dottrine alleanze Importanza e pregi di dottrine alleanze Dottrine alleanze è il titolo di questo libro Quanto più significativo esso è rispettoso al titolo originale libro dei comandamenti Se vogliamo giudicare il libro dal suo titolo libro dei comandamenti Significa che esso contiene soltanto comandamenti Ma questo titolo dato dal Signore quando fu stampata questa edizione Consentitemi di citare la copertina La dottrina è le alleanze della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni E' alquanto significativo e ci dice di cosa tratta in realtà Esso contiene la dottrina della Chiesa e le alleanze che il Signore farà con la medesima Se saremo disposti ad accertarle A mio avviso non esiste libro sulla terra tanto importante per l'uomo Quanto quello conosciuto come dottrina e alleanze Con tutto il rispetto per il libro di Mormo La Bibbia è la perla di gran prezzo che noi diciamo essere le nostre opere canoniche Per noi dottrina delle alleanze occupa un posto particolare al di sopra di tutti gli altri Ve ne dirò il motivo Quando dico questo non pensate neppure per un attimo Che io non attribuisca la giusta importanza al libro di Mormo Alla Bibbia e alla perla di gran prezzo Come fa qualsiasi altro uomo perché in effetti io li tengo in gran conto Non so chi possa averli letti più di me e li apprezzo molto Essi sono meravigliosi perché contengono la dottrina, le rivelazioni e i comandamenti Che noi dovremmo seguire Ma la Bibbia contiene la dottrina e i comandamenti dati agli antichi popoli Lo stesso vale anche per i libri di Mormo Esso contiene la dottrina e la storia e i comandamenti dei popoli Che dimorarono in questo continente nell'età passate Ma la dottrina e alleanze contiene la parola di Dio a coloro che dimorano qui ora Esso è il nostro libro, appartiene ai santi degli ultimi giorni ed è il più prezioso dell'oro Il profeta dice che dovremmo subverlo più a cuore delle ricchezze dell'intera terra Lo facciamo? Se l'apprezziamo, se lo capiamo, se sappiamo cosa contiene, lo terremo in maggior conto della ricchezza Esso è più prezioso di qualsiasi ricchezza terrena Come studiare dottrina e alleanze? Ho sentito un fratello dire che non riusciva a leggere dottrine e alleanze Perché somigliava molto a un dizionario Nel senso che non è una storia consecutiva Ma cambia continuamente il soggetto Naturalmente che è così Molti anni fa Quando ero presidente di un quorum di 70 A quel tempo non avevamo supervisione per ciò che riguardava il nostro studio Il mio quorum decise di studiare dottrina e alleanze E io fui nominato insegnante del corso Intraprendemmo lo studio sezione per sezione Non è possibile studiarlo bene in nessun altro modo Se lo desiderate Potete studiare argomento per argomento O dottrina per dottrina Ma a meno che non lo studiate sezione per sezione Non riuscirete a capire dottrine e alleanze E anche così facendo dovrete studiarlo Nella sua giusta collocazione temporale Come si trova nella storia della chiesa Così quando studiavamo dottrina e alleanze Non lo prendevamo come libro di testo Ma prendevamo documentari History of the Church Era stato pubblicato da poco Il primo volume che conteneva la maggior parte Delle rivelazioni di dottrina e alleanze Come la loro collocazione storica In modo che capivamo Le ragioni per cui era stata fatta Questa o quella rivelazione Sì che conoscevamo lo spondo Le cose che studiavamo Si apparivano più interessanti Che non se avessimo affrontato Le rivelazioni in altra maniera Sfruttate questi comandamenti Questa è la parola del Signore Sotto forma di comandamento Per tutti i membri di questa chiesa Sfruttate questi comandamenti Poiché sono veri e fedeli E tutte le profezie e le promesse Contenute si compiranno tutte Sfruttate questi comandamenti Sfruttare queste cose Io leggo spesso questo libro Raramente passa un giorno Senza che non ne legga un po' E non ci mediti sopra Così come leggo le altre opere dottrinali Il Signore ci ha dato questo libro Esso è il nostro libro Esso contiene le dottrine della Chiesa E i comandamenti e le alleanze Molte alleanze non potevano essere scritte E messe in un libro Esse si possono ricevere nel Tempio del Signore Ma io leggo queste cose Perché voglio sapere Quello che il Signore ha dato Da dire E quello che Egli vuole Che io faccia È Uno studio Meraviglioso Dottrina alleanza È anche Per il mondo Ai giorni nostri Il Signore ci ha dato molte rivelazioni Dottrina alleanza Ne è pieno Esse Tutte Riguardano i Santi degli ultimi giorni E il mondo Questo non è soltanto Il nostro libro Esso è il mio libro E il vostro Ma più di questo Esso appartiene a tutto il mondo Ai cattolici Ai presbiteriani Ai metodisti Ai atei Ai miscredenti E anche il libro Se lo accettiamo E se lo riconosciamo E anche il loro libro Il Signore lo ha dato Al mondo Per la sua salvezza Se non ci credete Leggete Le prime sezioni La prima sezione La prefazione E scoprirete Che il Signore Ha mandato Questo libro E le cose Che esso contiene Ai popoli lontani Che sono Nelle isole del mare E in terra straniere E la sua voce Per tutti i popoli Affinché tutti La possano udire E quindi Io dico Che esso Appartiene a tutto il mondo E non soltanto Ai santi Gli ultimi giorni Perciò Il mondo Sarà giudicato In base ad esso E voi Sarete giudicati In base ad esso Noi saremo Tutti giudicati In base ad esso Cioè In base alle cose Che questo libro contiene E in base Alle cose Che gli altri libri Contengono Che sono Le scritture sacre Che il Signore Ci ha dato E se non riusciremo A capire queste cose Se non scruteremo Se non terremo strette Le cose Che il Signore Ci ha rivelato Allora La sua condanna Sarà su di noi E saremo allontanati Dal suo cospetto E dal suo regno Dico questo In tutta serietà Perché ciò È verità Rivelazioni tenute Celate A causa Dell'incredulità Il Signore Ci tiene Celate Moltissime verità Che ci avrebbe Rivelato Con gioia Se fossimo Stati pronti A riceverle Sapevate Che una parte Della storia Da cui è stato Tratto i libri Mormon È sigillata A profeta Non fu permesso Di infrangere I sigilli E noi Non potremo avere La storia Sigillata Finché non verrà Il tempo In cui Il popolo Dimostrerà Con la fede La volontà Di accettarla Quanti hanno letto Da cima a fondo I libri Mormon Quanti sono resi Edotti Delle cose Rivelate In nottina Alleanza Su quello Che il Signore Ha detto Sui nostri doveri Come membri Della Chiesa Sulla nostra salvezza E esaltazione E su come Queste si possono Ottenere Finché Non saremo Pronti A riconoscere Le cose Già dateci Io temo Che il Signore Ci privirà Delle altre Che un giorno Saranno rivelate Se tutto Quello Che gli ispirati Storici Hanno scritto Fosse stato Conservato Allora Avremo La verità Inerenti Al Vangelo Di Gesù Cristo In tal modo Che Sbalordirebbe Il mondo A causa Dell'incredità Del popolo Il Signore Lo privò Di molte verità E così Esso Fu lasciato Senza La conoscenza Dei principi evangelici E della vera Chiesa Di Gesù Cristo Più rivelazioni In futuro Non tutte le rivelazioni Fatte al profeta Joseph Smith Si trovano In dottrina Alleanza Egli Ne ha però Una scelta Da inserire In questo libro La Chiesa Ha avuto Molte altre rivelazioni Ma in dottrina Alleanza Ne abbiamo Di sufficienti Per raggiungere L'esaltazione Se solo Daremo All'ascolto Quando noi Quali membri Della Chiesa Raggiungeremo Il punto In cui saremo Disposti a vivere Secondo tutto quello Che il Signore Ci ha rivelato Egli ci darà Più di quanto più Può essere messo In dottrina Alleanze Il Signore Ci nasconde Verità Grandi e potenti A causa Della nostra Durezza di cuore Perché dovremmo Desiderarne Ancora Quando Non vogliamo Attenerci A quello Che già Abbiamo Oggi Noi siamo Guidati Dalla rivelazione Proprio Come lo erano Gli antichi Biblioteche Familiari Tenete in casa Le opere Canoniche Una delle influenze Familiari Che ci indirizzano Verso la fede La preghiera E la giusta Comprensione Religiosa È di avere In casa Le opere Canoniche Della chiesa Non nascoste Ma dove Si possono Trovare Facilmente Su un tavolo O in altro Logo Dove si possono Vedere Quindi I componenti Della famiglia Dovrebbero essere Soltati Di tanto in tanto A leggerle Certe Di dire nella maggior parte delle case trovo buoni libri, dovremmo avere le opere canoniche della chiesa e dovremmo incoraggiare la lettura. Le opere canoniche giudicano gli insegnamenti di tutti gli uomini. Quale che sia la cosa scritta o quale che sia la cosa detta, se quello che è stato detto è in contrasto con ciò che il Signore ha rivelato, possiamo scartarlo. Se le parole, così come gli insegnamenti di qualsiasi altro membro della chiesa, a prescindere dalla posizione che occupa, non sono conforme alle rivelazioni, noi non dobbiamo accettarli. Chiariamo questo punto. Noi abbiamo accettato le quattro opere canoniche come unità di misura o come bilancia con cui misurare la dottrina di ogni uomo. I libri scritti dalle autorità della chiesa non potranno essere riconosciuti come norme di dottrina se non sono in armonia con la parola rivelata dalle opere canoniche. Ogni uomo che scrive è responsabile per ciò che scrive e non la chiesa. Se Joseph Smith scrive qualcosa che non è in armonia con le rivelazioni allora, ogni membro della chiesa ha il dovere di rifiutare ciò. Se invece gli scrive cose che sono in perfetta armonia con la parola rivelata al Signore allora, esse dovrebbero essere accettate. Si dovrebbe provvedere ad avere biblioteche familiari. È nostra facoltà guidare i giovani nelle loro letture e coltivare nel loro cuore il desiderio dei buoni libri. La persona che non ama le buone letture è veramente sventurata. L'abitudine di leggere come con la carità dovrebbe cominciare nella casa. È dovere di ogni genitore provvedere affinché nella casa vi sia una biblioteca di buoni libri a disposizione della famiglia. Non c'è bisogno che essa sia grande, né che i libri abbiano rilegature costose, ma dovrebbe esserci una varietà ben selezionata delle migliori opere che si possono procurare. Si dovrebbe incoraggiare i nostri figli a leggere buoni libri, ad apprezzarne il valore, a distinguere la buona dalla cattiva letteratura. È molto meglio che i nostri figli si divertano ascoltando e leggendo una storia sana ed educativa che, non sprecando il tempo, o giocando a carte, abitudine questa che non potrà mai essere condannata abbastanza severamente, o passando il tempo nelle sale da biliardo o per la strada insieme a cattivi compagni. Nessuno di noi è talmente povero da non poter comprare qualche buon libro per la sua famiglia. In quest'epoca, in cui i libri non costano cifre favolose, non sarà difficile mettere su una piccola biblioteca con libri della maggior specie. È improbabile che nel nostro paese vi sia una famiglia che ogni anno non spenda per i divertimenti o per sbagli di cui potrebbe fare almeno una somma con la quale potrebbe acquistare una serie di buoni libri. Sono stati in casa di alcuni nostri fedeli dove non c'erano neppure le opere canoniche della Chiesa. E pensare che esse sono assolutamente indispensabili in casa di santi degli ultimi giorni pubblici. Può essere una scusa per la mancanza dei classici più comuni, ma non c'è alcuna scusa per la mancanza delle opere canoniche della Chiesa e degli scritti sui principi evangelici dei nostri migliori autori. La cattiva letteratura va evitata. Molti libri sono stati rovinati perché c'è in essi troppo riempitivo. Gran parte dei romanzi sono imbottiti di argomenti non attinenti al tema centrale, i quali offuscono il pensiero e distruggono l'efficacia della storia. Molti dei nostri scrittori moderni rovinano quello che scrivono perché si inframezzano esclamazioni irriverenti. L'uso frequente del nome della divinità in quasi tutte le esclamazioni sembra essere per loro una caratteristica essenziale per conferire alle frasi enfasi e vigore. Molti libri scritti da autori famosi e capaci sono stati rovinati in questo modo. Se gli scrittori conoscessero meglio il comandamento, non usare il nome dell'Eterno che è il Dio tuo in vano perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Scriverebbero opere molto più belle e aiuterebbero i loro rettori a osservanza di questo comandamento. Libri di questo genere meritano il biatimo della gente e laddove questa caratteristica è molto marcata dovrebbero essere totalmente condannati. Altri libri contengono storie incomprendenti, oppure sono raccapriccianti o trattano temi immorali. Tai libri dovrebbero essere sempre condannati. Presso una determinata classe di persone questi libri sono molto popolari, ma corrompono la moralità appellandosi alle passioni più basse dell'uomo. Ci sono poi altri libri che forse secondo quello che intendiamo non contengono pensieri immorali, ma che sono pieni di gergo volgare. Uno scrittore importante ha detto, il gergo è per la lingua di un popolo quello che una malattia epidemica è per la costituzione corporea dei suoi componenti. Entrambi sono ugualmente contagiosi, come certe malattie sono più diffuse, dove le misure igienico-sanitarie sono più trascurate, così il gergo volgare è più diffuso, laddove vi è minor cultura e premura di contrattaccarlo. La forza distruttiva della cattiva letteratura. Un libro può non essere classificato cattivo, ma dovremmo chiederci se leggerlo ne tratteremo una benedizione, un beneficio intellettuale, morale o spirituale. Con questo non intendo dire che un libro scritto con il solo scopo di divertire sia necessariamente cattivo e da condannare, perché alcuni dei nostri migliori autori hanno dato al mondo libri divertenti che possono essere tranquillamente raccomandati. Ma se l'obiettivo di un libro non è di piccare o utile al lettore, esso dovrebbe essere editato. Ci sono cose, tanti libri che hanno dimostrato di essere buoni, che non abbiamo bisogno di sciupare il nostro tempo con quelli che possiamo considerare dubbi. E' stato detto, colui che scrive per gli sciocchi incontra un enorme pubblico di lettori. Non sempre i best seller di cui si fa grande pubblicità sono i migliori. Spesso ce ne sono di raccapriccianti e immorali che avvelenano la mente e distruggono l'anima. Molti di questi libri vengono scritti perché tra l'autore e l'editore esiste un contratto per cui l'autore viene pagato un tanto a parola. Per essere sicuri che vengono venduti si fa di tutto per richiamare l'attenzione del pubblico e si riempiono tra di tali libri di parole piccanti che riescono interessanti agli sciocchi di cui parlavamo prima. Questi libri sono come tele di ragno intessute per adescare le sciocche mosche che non sanno far altro che lasciarsi retire nelle loro maglie. Essi sono venduti soprattutto per la forza della grande pubblicità che ne viene fatta. Ed anche se la moda del momento induce la gente a comprarli e quindi le vengono stampate diverse edizioni, raramente essi vivono al di là di pochi anni e presto muovono e sono dimenticati. Non è così invece per il male che possono generare, perché le impressioni cattive che si imprimono nella mente possono durare a lungo. Leggete sistematicamente. La lettura esaltuaria, come abitudine, non è cosa buona. Tale sistema di lettura riduce la capacità di pensare e infiacchisce la mente. La lettura dovrebbe essere fatta sistematicamente. La lettura, che richiede studio e riflessione, non dovrebbe essere fatta affrettatamente. È meglio leggere poco e capire, anziché leggere molto senza afferrare i concetti. Talvolta sentiamo la gente dire, non ho tempo, ma noi tutti abbiamo il tempo di leggere e di studiare, perché questo è il nostro solenne dovere. Non possiamo predisporre le nostre cose in modo da trovare almeno 15 minuti di tempo ogni giorno da dedicare alla lettura e alla riflessione sistematica? Questo periodo di tempo è rilevante tuttavia, ammonterebbe a 1 ora e 45 minuti la settimana a 7 ore e mezzo in un mese di 30 giorni e 91 ore e un quarto all'anno. Questo equivale a 11 giorni e mezzo di 8 ore ciascuno nel corso dell'anno. Sono sicuro che tutti noi possiamo trovare più tempo di questo per leggere, tuttavia questa è la quantità di tempo che il dottor Elliot considerava necessaria perché un uomo potesse acquisire le nozioni indispensabili per un'educazione liberale, dalla sua raccomandata biblioteca alta un metro e mezzo. Pochi di noi leggono troppo, la maggior parte legge troppo poco. Il Signore ha detto e poiché tutti noi hanno la fede cercate diligentemente ed insegnatevi d'un lato delle parole di saggezza, sì cercate nei migliori libri le parole di saggezza, cercate l'istruzione sia con lo studio sia pure con la fede. L'importanza dei circoli di lettura. Si potrebbe organizzare con profitto dei circoli di lettura. I giovani uomini potrebbero riunirsi in qualche luogo a un'ora stabilita uno di loro potrebbe leggere mentre gli altri ascoltano. La lettura adatta voce è importante e i ragazzi dovrebbero leggere a turno. Questo insegnerà loro a leggere bene, a pensare più chiaramente e a pronunciare correttamente le parole. Questo sistema addestra sia l'orecchio che l'occhio. Inoltre ciò permette di stringere relazioni sociali e di scambiare idee cosa alquanto è utile ai giovani. Naturalmente ciò deve essere fatto sotto la guida di qualche persona responsabile e impegnata nell'opera di mutuo miglioramento. Quando un libro viene così letto si dovrà riconoscere di aver letto il libro a tutti coloro che sono stati presenti alla lettura. Nel capitolo 8 di Nemia c'è un versetto attivente a questo argomento. Leggiamo che quando gli ebrei ritornarono dalla prigionia furono chiamati a raccolta e Esdra e i sacerdoti si misero dinanzi a loro e li istruirono. Il passo è questo. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente e ne davano il senso per far capire al popolo quel che si andava leggendo. Questo versetto pur essendo costituito da una sola frase è un perfetto tratto sull'arte di leggere ad alta voce. I nostri giovani uomini quando leggono dovrebbero ricordare questo passo. Assicuratevi che nelle vostre biblioteche e nelle sale di lettura non manchino i libri del corso di lettura. I vari giovani che costituiscono un ciclo di lettura possono comprare l'intera serie di libri dividendo la spesa tra loro. Sarebbe bene che ogni famiglia acquistasse il corso di lettura così come sarebbe bene che una serie dei libri di tale corso fosse fornita a ciascuna associazione.